Musica Scolto istituzionale sul cantiere del tunnel di San Gerolamo, la provincia attacca a passaggio di competenze con Anna, sono ancora siglato pericolose le fughe in avanti. Intanto il progetto è da rifare. Nuove maglie e nuovi obiettivi per la calcio Lecco che si prepara alla prossima stagione, resta al nodo degli imprenditori locali a sostegno del presidente Di Nunno. La Biella Pacchino a bordo di una bicicletta motore, il lecchese Luca Greco tenta l'impresa di raggiungere il punto più a sud dell'isola in 150 ore a bordo di un velo Solex. Buonasera a tutti i telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Unica Lecco. Scontro istituzionale sul cantiere infinito dell'Alecco Bergamo. La provincia frena sull'annunciato passaggio di consegne fra Vide Locatelli e Anas. Intanto sono a disposizione 3 milioni di euro per riprogettare l'opera. Una certezza c'è, almeno il progetto del secondo lotto della Lecco Bergamo, il tunnel Salgirolamo va rifatto. Cosa però accadrà alla strada dei desideri e al cantiere bloccato che ha trasformato in un incubo la vita dei residenti di chiuso, si trova nello scontro istituzionale che si è consumato a denti nemmeno troppo stretti negli ultimi giorni. Il parlamentare del PD Gian Mario Fragomeli, da sempre sul pezzo, ha reso noto con un comunicato l'avvenuto passaggio di consegne del cantiere, finora in capo alla provincia di Lecco. Ora che il ministero ha dato nulla osta definitivo alla convenzione tra provincia e Anas per la progettazione esecutiva, spiega al deputato Dem, posso dirmi soddisfatto per il raggiungimento di un risultato importante. Parole andate di traverso a Vide Locatelli, che meno di una settimana fa aveva annunciato di aver ricevuto da regione 3 milioni di euro per riprogettare l'opera. E lo si vede in una nota sottoscritta dal presidente Claudio Zuelli e da diversi consiglieri, fra i quali anche Bruno Crippa, in quota Dem. Lo scorso 21 luglio, recita il comunicato, si è svolto un incontro per arrivare alla stesura definitiva della convenzione da sottoporre al ministero per l'approvazione. Ministero e Anas, proseguono dalla provincia, ci hanno inviato alcune modifiche alla convenzione che dovremmo valutare insieme. In questa fase delicata occorre evitare fughe in avanti che possano precludere il buon esito del procedimento amministrativo non ancora concluso. Uno scontro istituzionale che non aiuta certo i residenti di chiuso a bacchettare tutti al consigliere comunale di appello per l'eco Corrado Vasecchi. Cerchiamo di capire chi fa che cosa e se è proprio così scontato il ruolo operativo degli enti coinvolti in questa ripartenza, dichiara. Qualcuno poi dovrà indicare tempi certi, coperture finanziarie e progettazione a un dettato contrattuale che sia inattaccabile. Viceversa si rischia di rivedere il teatrino della politica del quale non solo i cittadini di chiuso ma tutti quanti ne abbiamo piene le tasche. Finita la sperimentazione ora si fa sul serio. Stiamo parlando del sacco rosso, primo test per introdurre la tariffa puntuale nella differenzazione dei rifiuti. Dopo il periodo di prova chi ora viene sorpreso l'eco a non utilizzare il sacco cippato rischia una multa fino a 420 euro. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco. Sul tema interviene anche la lista di minoranza. L'eco merita di più in questi ultimi giorni, dichiarano i consiglieri Emilio Binuzzo e Simone Brigatti. Siamo stati inondati di foto di cittadini riguardanti le problematiche derivate dall'introduzione del sacco rosso. Non ci sono solo furbetti che dovrebbero essere giustamente sanzionati ma moltissimi cittadini disorientati e malinformati su questa tematica. La soluzione a questo problema non può essere l'applicazione di multe come comunicato dal Comune, soprattutto in un periodo già così complicato dal punto di vista economico per molte famiglie. Cambiamo argomento. Task force per intercettare i finanziamenti dei bandi europei. Sono più di 30 i comuni lecchesi che hanno aderito alla convenzione promossa da Anci con Regione Lombardia. Obiettivo fare rete per aggiudicarsi le risorse messe a disposizione dall'Europa. Una task force per intercettare i finanziamenti dei bandi europei. Oltre 30 comuni della provincia di Lecco insieme alle comunità montane di Varsassi nell'Ario Orientale, numero destinato a crescere, hanno aderito alla convenzione SEAV, Servizio Europa d'Area Vasta, promossa da Anci insieme a Regione Lombardia. Obiettivo fare rete per affiancare gli enti locali nelle procedure relative ai bandi europei. Abbiamo costruito una rete tra i comuni della nostra provincia, il comune capoluogo ha fatto da capofila e la provincia ha fatto una grande azione di regia. Ora abbiamo una trentina di comuni attivi e pronti a mettersi in gioco sulla progettazione trasversale, una progettazione europea. In questo senso avere a disposizione una struttura tecnica capace di leggere i bisogni del territorio, reinterpretarli e scriverne i bandi perché si possa accedere tutti insieme come rete a delle risorse che permettano di fare il passo, ecco questo è un grande successo. Ricordiamo che l'Italia ha sempre fatto un po' fatica rispetto agli altri paesi ad agganciare i fondi europei. Forse proprio perché ha fatto fatica a fare rete, quindi noi questa fatica l'abbiamo già sperimentata, l'abbiamo già superata attraverso il lavoro che è durato diversi mesi e oggi siamo pronti e reattivi ad attivarci appunto di fronte agli stimoli che verranno sia dall'Unione Europea, sia dal PNR, sia da tutte le fonti di finanziamento che speriamo nei prossimi mesi sicuramente arriveranno. Il territorio di Lecco è stato tra i primi territori a livello regionale a rispondere, abbiamo messo insieme tantissime convenzioni, quindi è un risultato importantissimo per cogliere le opportunità dei fondi europei. Verrà creato un servizio ad hoc, un servizio vuol dire essere a disposizione con risorse competenti sul territorio per soddisfare le esigenze, i fabbisogni in un percorso di progettazione, quindi ci occuperemo di progettazione europea, ci occuperemo di rendicontazione europea, ma soprattutto porteremo come ANCI insieme ai nostri comuni risorse al territorio della provincia di Lecco e del comune di Lecco. Un progetto che consentirà di migliorare la qualità dei servizi, in particolare sui temi della rigenerazione urbana, della prevenzione del dissesto idrogeologico, dell'aria pulita. Il fine ultimo è proprio quello, riuscire a partecipare ai bandi europei e vincerli per portare risorse sul territorio che miglioreranno la qualità del territorio, la fruizione del territorio da parte di tutti i cittadini della provincia di Lecco, quindi rende in un servizio tutta quella che la cittadinanza invia immediata, ma che poi si riverberà anche su tutti coloro che fruiscono a vario titolo del nostro territorio. Nuove maglie e nuovi obiettivi per la Calcio Lecco che si prepara alla prossima stagione di campionato. Resta al nodo del sostegno alla squadra e al presidente Linnuno da parte degli imprenditori locali. Angelo Maiolo, direttore generale della Calcio Lecco, obiettivi di quest'anno? Gli obiettivi sono quelli di fare un campionato buono, cercando di vincere le più partite possibile e poi vediamo cosa ci dirà il campo. Sicuramente abbiamo fatto una bella squadra di giovani ma anche di anziani che sono rimasti l'anno scorso, noi miriamo abbastanza in alto, però poi il campo ci dirà la verità. Cercheremo di onorare questa maglia e andare su tutti i campi sia in casa che in trasferta a fare delle ottime partite, quello sarà l'obiettivo, dare fastidio a tutti. Poi non abbiamo né un obiettivo minimo né un obiettivo massimo, sicuramente dobbiamo dare fastidio a tutti ed essere la mina vagante del campionato. C'è possibilità che il Presidentissimo Di Nunno abbia questo aiuto che tanto cerca? Io Di Nunno ho sempre fatto quel poco che ho potuto fare, poco non vuol dire poco, insomma qualcosa ne abbiamo fatto. Certamente fin quando c'è Di Nunno non mi fermo, specialmente se Di Nunno continua. Se poi Di Nunno un giorno si stancherà mi auguro che qualcuno dal circondario di Lecco si sveglia e darmi una mano perché se no se mi va via Di Nunno ho fatto tanta fatica a portarlo a Lecco non vorrei vederlo andare via, anche se lui vuole lasciare le redini ma preferirei che rimanga nel calcio a Lecco con altre manzioni. Impresa davvero singolare per un lecchese appassionato di motori d'epoca. a bordo di un Velo Solex tenterà l'impresa di raggiungere la Sicilia da Biella in 150 ore. Da Biella a Pachino, punto più a sud della Sicilia in 150 ore a bordo di un Velo Solex, una bicicletta motore francese. È l'impresa che sta tentando il lecchese Luca Greco appassionato di sfide e di meccanica partecipando a una corsa davvero fuori dagli schemi. Velo Solex è semplicemente una bicicletta con un motore a rullo posto sulla ruota anteriore quindi la trasmissione avviene a rullo, non c'è una catena, non c'è un cardo, non c'è nulla. Un rullino piccolissimo che gira su una gomma. Per cui si consumerà anche la gomma anteriore. La sfida sarà appunto partire da Biella, arrivare a Pachino in 150 ore facendo circa 1600-1800 chilometri di strade urbane perché ovviamente essendo un cinquattino è vietato fare autostrade e superstrade. Perché hai deciso di fare questa sfida? Perché è bello cercare di trovare i limiti in ogni cosa, no? Per cui è veramente interessante capire dove può arrivare un motore che in realtà è stato concepito per fare tutt'altro. C'è dietro una preparazione lunghissima, cioè sembra tutto così molto semplice in realtà c'è una preparazione di circa sei mesi. Ho perso 12 chili di peso per alleggerire il mezzo perché il mezzo non si può alleggerire, cioè non è che possiamo mettere del carbonio o della fibra di carbonio, dell'alluminio. Il mezzo è quello che è per cui ho dovuto togliere peso a me stesso ma quello che mi sento di consigliare è di non darsi dei limiti veri e propri quindi di puntare sempre più in alto e di cercare di fare cose che chiunque ti potrebbe dire impossibili. Una corsa in montagna per sostenere Cascina. Don Guanella, Valmadrera, torna la Barabinarana. Una testimonia d'eccezione, l'ex campione del mondo di ciclismo, Cade Livans. Una gara di corsa in montagna per sostenere Cascina Don Guanella, progetto di agricoltura sociale promosso a Valmadrera da Don Agostino Frasson. Presentata la terza edizione della Barabinaran, in programma sabato 9 ottobre. 400 pettorali a disposizione, un percorso a doppio anello di 8,4 chilometri e dislivello positivo di 800 metri. Confermata a grande richiesta anche la Barababy Run, riservata ai piccoli amici della Cascina. Si tratta di una corsa a piedi attorno alle bellezze della Cascina Don Guanella, ci porta al Sasso di Preguda e sarà il 9 di ottobre. È un'occasione importante per fare una festa di famiglia, perché la prima edizione è stata proprio così, una festa con tanti bambini, dove hanno corso anche i bambini. Ci sono veramente divertiti in questo luogo. L'anno prossimo sarà ancora meglio perché la Cascina Don Guanella si è attrezzata in maniera direi più, direi confacente ai bambini. Come sempre l'obiettivo è sostenere questa esperienza della Cascina Don Guanella. Eh sì, adesso siamo arrivati al punto di dover incominciare i lavori per l'agribike, cioè la vecchia cascina ormai faticente, va presa seriamente in mano e ristrutturata per creare alloggi per i turisti che vengono a visitare le nostre zone in bicicletta. Le iscrizioni sono già aperte sul sito Cronomen, al costo di 20 euro testimonial della gara, nonché amico, sostenitore delle attività di Cascina Don Guanella, il campione del mondo di ciclismo Cadel Evans. Sempre sentire spesso Don mi tiene ben informato, ma del cuore sto contando, adesso mi sembra sette anni della conoscenza, più di sette anni infatti, e quando avevo conosciuto dire sempre di tornare qua a vedere questi sogni realizzati dal Don, lui sognava più di cose che io potevo anche immaginare. Termina così questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo la possibilità di rivedere i servizi andati in onda sui nostri social e sul sito di Unica Lecco, grazie ancora, vi auguro una piacevole serata, vi do appuntamento alle prossime edizioni di questo notiziario. Grazie a tutti.